Conclusa la manifestazione American Motors Festival dedicata alle auto e le moto d'oltreoceano. Migliaia di persone, tra le quali molti turisti, hanno mirato circa 200 veicoli provenienti da tutta la Sardegna e dalla penisola, esposti nella zona portuale e nei quartieri popolari di Alghero. L'evento ha visto anche la partecipazione dei due stuntman sardi, Gian Polo Sasso e Salvatore Vinci, i lanci di esibizione dei dragster. A far da cornice gli stand collegati al mondo americano, la musica dal vivo con i concerti dei Wookies, dei Wellers e dei DJ Davide Merlini. Grande soddisfazione da parte dell'associazione organizzatrice LH Garage Car Club per un evento alla sua prima edizione che è andato oltre ogni più rosea aspettativa e che ha svegliato l'animo di collezionisti in ogni centro dell'isola, tanto da riportare fuori dai garage auto storico americane dopo decenni.